Non esattamente un terzo trimestre a tutto gas per Gazprom. Il monopolista statale russo, primo produttore mondiale, registra un calo dei profitti del 10%, 276 miliardi di rubli, quasi 6 miliardi di euro. A fronte di un aumento del fatturato del 7%, circa 26 miliardi di euro, il colosso ha però escluso il fattore rimborsi, un'eventualità legata alla rinegoziazione dei contratti di lungo termine. Per gli analisti la causa è da attribuire alla frenata dei guadagni ottenuti grazie al cambio favorevole. Due anni fa avevano raggiunto quasi 1,7 miliardi di euro, mentre nel 2013 si sono fermati a 86 milioni.